Su YouTube ci sono centinaia di migliaia di video sponsorizzati da NordVPN. Solo nell'ultimo mese le loro sponsorizzate sono state viste una decina di milioni di volte. Allora sorge spontanea la domanda come fa un'azienda, nata quasi dal nulla, a potersi permettere tutta questa pubblicità. Cosa c'è dietro? Queste sono le domande che mi sono posto e in questo video cercherò di darvi tutte le risposte maturate dopo ore e ore di ricerca. Bisogna necessariamente partire dal servizio e dalle false promesse che vi si accompagnano. Infatti tutti gli YouTuber ripetono la cantilena di questi due punti principali, di questi due vantaggi di NordVPN. Il primo è che vi protegge dagli hacker cattivi che vogliono rubarvi dati. Il secondo è che vi permette di aggirare i blocchi di contenuti di piattaforme come Netflix e Replay che magari non vi darebbero accesso a determinati contenuti. Cercherò di parlare brevemente di questo ultimo punto perché mi pare ovvio che sia qualcosa di immorale sicuramente, ma anche veramente al limite del legale se non illegale, visto che state rompendo i termini di servizio che avete firmato quando vi siete registrati sulle piattaforme e state rompendo anche gli accordi che sono stati fatti tra chi detiene il copyright di un determinato contenuto e chi invece lo distribuisce. Quindi gli stessi YouTuber che con il copyright in un certo senso ci vivono vi incentivano a romperlo. Ecco, questo sicuramente è un problema. Le piattaforme per adesso non ci stanno ponendo troppa attenzione perché non gli interessa risolverlo. Io sono cresciuto a pane e alta definizione, ero streaming, quindi non voglio fare la morale a nessuno, però quando si tratta invece di sponsorizzare il prodotto per questi motivi mi farei due domande. Il punto più interessante è quello legato agli hacker. Se siete connessi ad un wifi pubblico, NordVPN non fermerà il piccolo hacker di quartiere da rubarvi dati di accesso alla banca. Se l'hacker riuscirà a rubarvi dati, non è perché non avete usato una VPN, ma perché quell'hacker era effettivamente molto bravo. Non entrerò nei dettagli di come funziona la comunicazione con la vostra banca, ma il punto chiave di tutta questa vicenda è il protocollo HTTPS, di cui avrete sentito parlare perché anni fa c'erano tantissimi siti che facevano questa migrazione dall'HTTP all'HTTPS e i siti che utilizzano quest'ultimo protocollo sono molto più sicuri. Ci sono video in descrizione che spiegano meglio il meccanismo, ma tutto quello che vi basta sapere è che il messaggio che voi mandate al dominio della vostra banca è criptato e nessuno ha la chiave per decifrarlo. Quindi anche nel momento in cui l'hacker dovesse riuscire a intercettare questo pacchetto di messaggi che va dal vostro client fino al server della vostra banca, non riuscirà a sapere cosa c'è scritto dentro. Quindi, a cosa serve la VPN? Vi può proteggere? Sì, ci sono dei casi in cui la VPN chiaramente può essere utile, semplicemente è molto meno utile di quello che non la faccia sembrare. Serve se non volete far sapere al vostro provider internet quali sono i domini che state visitando, chiaramente è un caso molto utile se vi trovate anche in paesi dove c'è censura, per esempio è più censura che in Italia e in altri paesi simili, e ci sono altri casi limite in cui magari può tornarvi utile. Però non è, come viene detto in tutti i video, che grazie a NordVPN riuscirete a non farvi rubare i dati. Quella è assolutamente un'esagerazione di quelli che sono i potenziali del servizio. Però, ripeto, ci sono video in descrizione che lo spiegano meglio. La domanda può sorgere spontanea, perché in un video in cui ci chiediamo come faccia NordVPN a sponsorizzare tutti questi youtuber, perché lo faccia, analizziamo questo punto. Beh, perché chiaramente se stiamo parlando in maniera altisonante, in maniera non veritiera delle feature di un prodotto, lo stiamo anche vendendo in maniera migliore, chiaramente in maniera poco etica, ma migliore. Sarò molto più incentivato a spendere 700 euro per questo telefono se dovessi pensare che mi dia la vita eterna, ma chiaramente non è così. Quindi questa accentuazione delle potenzialità delle VPN sicuramente aumenta il tasso di conversione degli utenti che vanno a finire sul loro sito e sono interessati a comprare. Passiamo quindi alla parte centrale di questo video. Come fa NordVPN a fare i soldi? Quando si vede una sponsorizzazione così massiccia, di questo tipo, il primo dubbio che viene in mente a persone malevole come me è che un'azienda come NordVPN raccolga i dati degli utenti e poi li rivenda a terzi. sappiamo che quando si raggiunge una certa massa di informazioni legate alla navigazione di utenti ci sono tanti soldi che si possono fare in quell'ambito. Però dopo aver fatto un po' di ricerca non ho trovato niente che possa confermare questo mio dubbio. Sicuramente non sono tra le aziende più trasparenti del mondo, però sono state fatte varie audit da aziende dipendenti che hanno riportato in alcuni casi delle fragilità del sistema che poi sono state risolte, almeno secondo Nord Security, che è l'azienda che è proprietaria di NordVPN e non è stato rilevato nulla per quanto riguarda la collezione e la rivendita di dati. Quindi da quel punto di vista mi sento più sicuro, non al 100%, ma mi sento più sicuro dopo aver visto questo video. Ci sono aziende di VPN che sono effettivamente state portate in tribunale a cui è stato chiesto di mostrare i registri dei log dei propri utenti e che non li hanno mostrati perché non li avevano effettivamente a disposizione. Questa sicuramente è una prova ulteriore della fiducia verso quelle VPN. NordVPN non è una di queste, non è mai successo e c'è stato un piccolo scandalo nel 2017, mi sembra, quando uno dei server su cui faceva un affidamento è stato bucato e la comunicazione di Nord in merito è stata un po' poco chiara. Però a parte questo l'azienda sembra essere pulita per quelle che sono le informazioni che abbiamo online. Allora torniamo alla domanda. Come fa Nord a fare soldi? Cioè riesce effettivamente a rientrare del costo, delle sponsorizzazioni grazie alla pubblicità che ottiene dagli youtuber? La risposta è sì. Ora andiamo a vedere come perché è la parte più interessante ma vi do già uno spoiler, probabilmente sì. Come sapete il prodotto principale di Nord Security e NordVPN che ha un costo di circa 40€ l'anno quando comprate il pacchetto da due anni 55€ l'anno quando comprate il pacchetto da un anno. C'è anche un altro tier che è quello mensile che costa 10€ al mese ma quel tipo di offerta è stato messo lì palesemente per aumentare l'appetibilità degli altri due tier. Questo è molto comune nel mondo del software della vendita online si crea un terzo tipo di pricing un terzo tipo di pacchetto di vendita che ha un valore smisurato rispetto agli altri due e quindi vi sembrerà che il pacchetto da uno e da due anni sia un grande affare rispetto a quello mensile. Questo è un aspetto estremamente importante nell'ambito delle VPN perché perché il servizio delle VPN in sé è molto economico da costruire, da creare. Non sono un esperto del settore ma leggendo vari e-report mi è sembrato di capire che i costi diciamo di mantenimento di un utente da parte delle VPN è estremamente basso. Quindi come fai a dare la percezione di valore a chi lo sta comprando quando invece il servizio che offri è molto economico? Beh, lo fai in vari modi. Il primo è quello che abbiamo appena spiegato. Fai vedere che il costo mensile è 10€ quindi io penso, ah, mi costerebbe 10€ fare un mese di NordVPN ma se lo faccio per un anno mi costa 4€ al mese mi costa 5€ al mese allora sicuramente è un affare importante. Il secondo modo in cui lo fanno è quello di ulteriormente alzare il prezzo in maniera artificiale. NordVPN ha sempre costantemente offerte di tutti i tipi 3 mesi gratis, 2 mesi gratis 60% di sconto 2 mesi gratis c'è mia sorella in cariola e anche mia zia se sei gentile. Quindi questi sono tutti metodi che vengono usati quando si sta vendendo un prodotto che all'interno della mente del consumatore non ha un prezzo ben definito e che vuole essere aumentato in maniera artificiale. Sono però molto bravi a tenerlo in un range per cui è comunque possibile aspettarsi che l'utente paghi su base annua anziché su base mensile. Andremo a vedere poi tra poco perché questo è molto importante per il tipo di business che NordVPN fa. Facciamo un passo indietro però chiediamoci come fa NordVPN a stare in piedi. Per chi imbazzica il mondo delle startup penso alla maggior parte delle persone in questo canale ad oggi verrà naturale pensare che Nord abbia raccolto soldi da investitori. Di solito una startup va da investitori che gli danno soldi in cambio di azioni in cambio di equity nell'azienda perché poi si aspettano che la startup investa questi soldi per crescere in maniera rapida e assumere una posizione importante nel mercato. La cosa peculiare di NordVPN è che non hanno raccolto soldi da investitori fino ad aprile del 2022. Infatti aprile del 2022 è stato il primo round di investimento di Nord Security che ha raccolto 100 milioni di dollari a una valutazione di 1.6 miliardi di dollari. Quindi è già un unicorn e quindi un'azienda che ha superato il miliardo di valutazione e aspettare così tanto per fare una raccolta fondi per una startup specie che si interfaccia con i consumer è molto molto raro. È veramente incredibile che siano riusciti a mandare avanti la carretta fino a questo punto senza richiedere fondi precedentemente. Sicuramente avranno messo dei fondi iniziali i fondatori l'incubatore di a cui sono nati che poi tra l'altro ha una storia particolare dietro che andremo a vedere dopo però hanno avuto un successo incredibile da questo punto di vista. E qui torna al punto di prima. Perché è importante che gli utenti paghino tutto l'anno insieme per North Security? Perché questo gli permette di mantenere quello che in gergo tecnico viene chiamato cash flow. Gli permette di continuare a pagare i conti alla fine del mese. Se tutti quanti gli utenti di Nord pagassero i famosi 2 euro al mese 3 euro al mese che il servizio costa invece di pagarne 70 all'inizio loro avrebbero avuto una crescita molto molto più lenta. Invece di ricevere 70 euro tutti insieme avrebbero continuato a ricevere 2 euro al mese in maniera continuativa. E vi faccio un esempio semplice e chiaro per farvi capire quale può essere la differenza di impatto di questo modello di business per la crescita appunto di un'azienda come la loro che è stata Bootstrap senza fondi esterni inizialmente. Quando un costo del prodotto è così basso far pagare 80 euro tutti insieme per due anni rispetto a non lo so 2,50 euro al mese non impatta in maniera eccessiva il tasso di conversione. Nel caso stessimo parlando di Netflix una persona dovrebbe pagare tutto insieme più di magari 100-200 euro questo sicuramente sarebbe più un deterrente. Nel caso di Nord magari da un 5% di persone che convertono e comprano si passa a un 4% sto chiaramente facendo esempi un po' a caso ma in maniera intuitiva si capisce perché può avere senso andare verso questo modello per un'azienda come la loro. Adesso andiamo a analizzare la parte di cash flow che ho menzionato prima. Immaginiamo che io stia vendendo un prodotto che costa 10 euro al mese per prendere due clienti i miei primi due clienti Gino e Dugo ho bisogno di spendere tutti i 100 euro che io ho in banca ok? Magari li utilizzo per sponsorizzare un video YouTube. Bene una volta che Gino e Dugo comprano il mio prodotto ci sono due opzioni il primo è che mi paghi in maniera mensile se loro dovessero cominciare a pagarmi mensilmente io devo aspettare 5 mesi in cui Gino e Dugo ognuno mi pagano 10 euro per poi avere di nuovo miei 100 euro da dare a un altro YouTuber che poi mi farà avere altri due clienti quindi sicuramente comincerò a crescere però ci vorrà un po' di tempo. Nel momento in cui Gino e Dugo dovessero pagarmi tutto l'anno insieme io avrei immediatamente 240 euro e quindi che faccio? Posso dare 100 euro a un altro YouTuber 100 euro a un altro YouTuber e tenermi magari anche 40 di profitto per spendere e migliorare il prodotto. Questo è un esempio chiaramente semplice e banale però vi fa capire l'importanza del cash flow per un'azienda come la VPN che ha un modello di business molto transazionale e scientifico in un certo senso. Loro danno denaro prendono views e prendono iscritti. Quindi far pagare tutto quanto insieme è un modo molto intelligente per accelerare in maniera rapida il processo di crescita in particolare quando non hanno un cuscinetto da cui partire almeno per quanto ne sappiamo. Aziende che hanno investitori che sono disposti a mettere in continuazione decine di milioni di euro per sostenere la crescita possono permettersi di appunto come dire rimandare tutta la parte di revenue ma aziende come NordVPN che fanno affidamento completo sulle revenue che creano vogliono ricevere i soldi il prima possibile. Chiaramente in questa equazione del marketing di Nord manca una componente cioè gli influencer quanto ci costa effettivamente mostrare il prodotto alle persone costa 100 euro come nell'esempio di prima o 500 perché in quel caso le unit economics non funzionerebbero il prodotto e quel tipo di sponsorizzazione non andrebbero bene insieme. Chiaramente avere un quadro generale specifico è molto difficile se non si lavora a Nord o se non si lavora in una grande agenzia di influencer internazionale magari anche italiana però per esperienza personale di persona che ha fatto campagne simili chiaramente su scala più piccola come lavoro e anche avendo parlato con diversi creator che sono stati sponsorizzati da NordVPN e altre aziende di VPN penso di potervi dare un quadro abbastanza chiaro. In Italia il range è molto ampio ho visto persone che vengono pagate 0.5 centesimi ogni views e persone che invece vengono pagate 1 o 2 centesimi a views questo si traduce in 5 euro ok ogni 1000 views oppure 100 euro ogni 1000 views più di 100 euro capite che la differenza è abbastanza grande questo dipende chiaramente dal dal tipo di youtuber il tipo di contenuti quanto sono fidelizzati gli utenti quanto anche è difficile tra virgolette quello youtuber quindi per lo scopo di questo video prenderei una media abbastanza mi sembra nella media appunto almeno in Italia di 20 euro ogni 1000 visualizzazioni chiaramente quello che interessa al NordVPN non è il costo per visualizzazione ma il ritorno monetario finale pagherebbero anche 10 volte di più e se i soldi poi tornassero indietro quindi il primo step per andarci a calcolare il ROAS il ritorno sull'investimento pubblicitario è quello di capire dalle visualizzazioni che noi fondamentalmente stiamo comprando qual è la percentuale di persone che poi clicca sul link in descrizione sul link nei commenti e va a finire sul nostro sito e poi ci andremo a occupare anche di di quante persone sono arrivate sul nostro sito effettivamente quante vanno a comprare il prodotto partiamo dallo step numero 1 ci sono vari benchmark che si trovano online ho visto anche persone che riuscivano a far cliccare i link in descrizione dal 4-5% delle persone che visualizzano il video questo chiaramente è un benchmark un po' fuori scala spesso si tratta di video che sono focalizzati sul prodotto che stanno recensendo per dire in quel caso è normale che io sto cercando una fotocamera vado a vedere un video che parla di quella fotocamera e magari vorrò andare su Amazon per vedere il prezzo e lo youtuber fa diciamo la call to action per dirmi di andare a cliccare sul link Amazon in descrizione per video come quelli in cui NordVPN sponsorizza direi che si può assumere più o meno uno 0.6% 0.5% di click through rate quindi di 100 persone che vanno a vedere un video sponsorizzato da NordVPN diciamo che più o meno mezza oppure 0.6 effettivamente va e clicca sul link in descrizione tra l'altro Nord forza sempre i creator non solo a mettere il link nella descrizione ma a fissare un commento con il link almeno da quello che ho visto io e penso che questo aiuti molto a aumentare il tasso di click ora che abbiamo più o meno un'idea di quante persone possano cliccare sul link facciamo un esempio concreto per capire effettivamente quanti acquisti ci possiamo aspettare immaginiamo un famoso youtuber che di media fa un milione di visualizzazioni a video e quindi in base alla stima che abbiamo fatto prima di 20 euro ogni mila visualizzazioni viene pagato 20.000 euro da NordVPN un buono stipendio sarei dire e in base a quello 0.6% che abbiamo stabilito prima ci aspettiamo 6.000 persone che effettivamente vanno sul sito di NordVPN dopo aver sentito l'advertising ora la domanda successiva è di quelli che arrivano sulla pagina quanti effettivamente comprano in base alla mia esperienza personale e di nuovo a benchmark che ho visto di persone che hanno sponsorizzato NordVPN il fatto che hanno delle pagine in cui venite rimandate che sono costruite oggettivamente molto bene per vendere mi aspetto un tasso di conversione che va dal 4 al 5% quindi immaginiamo 4.5% e questo vuol dire 270 acquisti andando a vedere il costo medio del carrello di NordVPN che abbiamo menzionato prima intorno agli 80 euro quindi ci immaginiamo che il ritorno immediato per NordVPN per queste sponsorizzazioni sia intorno ai 21.000 euro più di 21.000 euro questo è incredibile non tanto per i 1.000 euro di differenza non è non è il risultato non è questo il risultato in sé che conta ma il fatto che loro riescano a rimanere probabilmente profittevoli sulla maggior parte dei video che sponsorizzano e allo stesso tempo avere tutti i benefit aggiuntivi infatti andiamo a vedere ora più nel dettaglio perché anche nel caso in cui non dovessero tornare avere un ritorno positivo immediato sui video è una cosa molto conveniente quella di continuare a sponsorizzare video youtube ci tengo qui chiaramente a fare anche una precisazione i numeri che ho portato non sono e non possono essere per chiara natura di questo video estremamente precisi e anche una piccola variazione può fare una differenza enorme per quelle che sono le unit economics di questi tipi di sponsorizzate ok quindi magari ci sono paesi in cui i costi sono estremamente più alti estremamente più bassi magari ho sbagliato il tasso di click nella descrizione questo magari NordVPN poi un giorno ce lo dirà però ecco quelle che ho fatto sono stime abbastanza diciamo basate su benchmark di mercato mettiamola così e vediamo poi se ci sono persone che sono più informate di me e che possono darci un insight ancora più aggiornato però questo ci interessa relativamente proprio per quello che dicevo prima Nord sarebbe contenta con la maggior parte di queste sponsorizzazioni anche se il ritorno non dovesse essere così positivo almeno oggi che hanno un cuscinetto più grande su cui sedersi all'inizio chiaramente per loro era molto più importante invece non perdere soldi perché come abbiamo visto non ne avevano così tanti di sicurezza il primo aspetto è che chiaramente stiamo vendendo dei prodotti in abbonamento quindi ok ad oggi ci ritornano 21.000 euro poi tra un anno tra due anni quando gli abbonamenti si rinnoveranno la maggior parte probabilmente si rinnoverà di solito questo tipo di prodotto non ha un churn rate così alto quindi churn rate nel senso che non ci sono tante persone che smettono di pagare quel servizio e quindi loro sanno che ok abbiamo fatto 20.000 euro oggi poi di queste persone il 50% non ci pagherà più la prossima volta però fondamentalmente vuol dire che oggi abbiamo fatto 20.000 euro e tra uno o due anni ne avremo fatti 30.000 quindi voi immaginate che un'azienda che vende un software in abbonamento in ambito B2B che è quello in cui lavoro io in realtà è contenta quando riesce a vendere un prodotto in abbonamento spendendo 5, 6 anche 10 volte quello che è il prezzo mensile di quel software quindi immaginiamo che io sia Streamyard per esempio ok non è esattamente B2B però sono un software che si paga in maniera mensile e che permette agli youtuber di fare streaming il costo di Streamyard è di 20 euro al mese Streamyard è contenta adesso immagino di portare un utente spendendo 100 euro perché vuol dire che in 5 mesi riusciranno a coprire il costo dell'advertising che hanno fatto verso quell'utente e chiaramente immaginando che i costi di servizio non siano eccessivamente alti diciamo che in 5-6 mesi riescono a coprire il costo iniziale e cominciare a fare profitti per l'utente che hanno acquistato anche qui dipende da azienda dipende da quanti mesi in media vengono ritenuti gli utenti vengono trattenuti gli utenti però è giusto per darvi un benchmark e per farvi capire quanto NordVPN sia fuori scala in questo senso anche se loro non dovessero rientrare tutti i loro costi subito il fatto di riuscire quasi a farlo è veramente incredibile il secondo aspetto è che il mondo di YouTube fluttua molto e lo sponsorizzare tantissimi youtuber allo stesso momento ti dà un vantaggio il vantaggio è che nel caso in cui uno dei video che stai sponsorizzando dovesse andare male questo capita molto spesso c'è sempre la possibilità che invece un altro vada bene e tendenzialmente io pago la media dello youtuber magari che fa 200.000 visualizzazioni nel caso in cui il video dovesse andare male potrebbe farne 100.000 se ho scelto bene il creator magari se ne dovesse fare zero probabilmente ho sbagliato il creator da sponsorizzare ma capita altrettanto spesso sarei dire forse non altrettanto spesso ma capita comunque abbastanza spesso che invece alcuni dei video che io sponsorizzi vadano estremamente bene l'ho visto in prima persona con le sponsorizzate che ho seguito e magari un video che NordVPN ha pagato per 200.000 visualizzazioni ne fa un milione ne fa un milione e due e capite che un video di quel tipo riesce a ripagare tutte le varie fluttuazioni e tutti i vari fallimenti che ci sono stati altrove il terzo aspetto è che ci sono aziende che già senza aspettarsi vendite pagherebbero migliaia di euro per essere affiancati a determinate personalità sappiamo che l'essere sponsorizzati da facce conosciute amate dalle persone come può essere quella di molti youtuber già di per sé ha un valore e quindi benvenga che io magari riesca gratuitamente perché rientro dell'investimento a associarmi a tanti tanti youtuber in particolare quello di associarsi a tanti youtuber diversi in continuazione permette anche di stabilirmi come leader di mercato se vogliamo questo è un po' il quarto punto cioè il fatto che si parli sempre in continuazione di NordVPN lo rende il prodotto numero uno nella testa di chi vuole comprare una VPN e questo dà un vantaggio enorme c'è un video sul canale che parla del libro di marketing più bello di sempre positioning e in quel libro appunto si spiega come il vantaggio del leader di mercato sia enorme rispetto al numero due numero tre numero quattro quindi è una piccola differenza magari che però nel lungo termine può fare una differenza enorme magari sono leggermente avanti come posizionamento nel mercato però i vantaggi che ho a livello di revenue a livello di futuro come azienda sono enormi e poi questi vantaggi continuano a a creare un effetto un effetto positivo perché avrò più soldi quei soldi posso rinvestirli per diventare ancora di più leader del settore insomma è una cosa che si vede spesso pensate anche solo a McDonald's e Burger King che è l'esempio classico che si fa oppure Coca Cola e Fanta per analizzare ancora un po' di più questo aspetto ci tengo a condividere una teoria che ho cominciato a costruire qualche anno fa e che ogni tanto mi piace ritirare fuori anche per testarla quando si fa influencer marketing ci sono due opzioni principali dal mio punto di vista il primo è quello di andare a lavorare con degli influencer curati che sono molto collegati alla nostra nicchia e che quindi avranno un tasso di conversione naturalmente più alto e un costo più basso il vantaggio di questo aspetto è chiaramente che andremo a spendere di meno se vogliamo è leggermente più sicuro anche se è più volatile ok magari sponsorizzo due youtuber e due video che vanno male bad luck però chiaramente l'altro aspetto è che i potenziali clienti finiscono presto la cosa da non fare è quella di andare in metà strada quindi di sponsorizzare magari tre o quattro youtuber anche di medie dimensioni e poi smettere quello che vedo di continuo è che le aziende che hanno successo con influencer marketing continuano ad investirci ad investirci tanto e a investire su tanti creator diversi questo perché intanto perché il vedere tante persone che parlano di un qualcosa crea in un certo senso la famosa FOMO magari un visitatore di youtube vede che due, tre, quattro, cinque dei suoi creator preferiti parlano di NordVPN e sente un po' la necessità di capire intanto di cosa si sta parlando di approfondire e magari comincia anche a dire ah ma ne parlano tutti non è che magari mi sto perdendo qualcosa questo è un meccanismo di cui ormai si parla tantissimo riguardante la psiche umana ed è importante tenerlo in considerazione il secondo è che quando gestivo team di vendita spesso si usava questo benchmark chiaramente questa continua promozione aumenta anche la sicurezza che si ha verso i brand questo lo vediamo anche con le sponsorizzate in televisione se vogliamo vediamo George Clooney vediamo altri personaggi famosi che si associano a un brand più questa cosa accade più noi pensiamo che col brand effettivamente abbia un valore ci si possa fidare quindi anche per questo NordVPN riesce a convertire il 4-5% del traffico che arriva sulle proprie pagine perché c'è tutto questo lavoro di branding fatto a monte l'altra statistica che mi piace condividere è quella che molto spesso viene tirata in ballo quando si parla con team di vendite cioè il fatto che in media per fare una vendita servono dai 7 ai 9 punti di contatto con un potenziale cliente di nuovo questo è più in ambito business to business però è interessante vedere anche come si applica nel business to consumer quindi vi chiedo di immaginare quando è che avete comprato una VPN magari no? io NordVPN l'ho comprato l'ho pagato e sicuramente non l'ho comprato dopo la prima volta che ho visto un advertising l'ho visto poi magari me ne sono scordato ho visto un altro advertising poi è successa la terza la quarta la quinta volta e ho deciso di comprare quindi questo assolutamente è un tema chiave non basta mettere il vostro brand di fronte a un cliente una volta per farlo comprare almeno di solito non funziona così visto che abbiamo parlato brevemente anche degli altri canali pubblicitari di NordVPN vi faccio vedere un po' di statistiche sul loro sito prese da SimilarWeb non so quanto siano accurate però secondo loro il 3% del traffico totale di NordVPN arriva da YouTube il resto arriva da traffico diretto e dai motori di ricerca quindi qui vediamo l'altro vantaggio di sponsorizzare in maniera massiccia si consolidano e si aumenta quelli che sono le persone che vanno direttamente sul nostro sito ok perché appunto magari hanno sentito parlare di NordVPN poi due giorni dopo vogliono comprare una VPN per qualche motivo un po' come è successo a me adesso questo lapsus la prima cosa che gli viene in mente è VPN NordVPN l'altro aspetto è la SEO no? perché hanno così tanto traffico dai motori di ricerca il primo è perché il 70% di quel 45% del loro traffico è quello che viene chiamato in gergo tecnico branded keywords o branded search quindi sono persone che cercano su Google NordVPN quindi sono persone che magari l'hanno vista altrove e poi la vanno a cercare l'altro 30% sono keyword diverse quindi magari una persona che cerca best VPN migliore VPN oppure VPN più veloce e Nord riesce a posizionarsi in maniera buona su queste query di ricerca su Google anche perché è un brand estremamente conosciuto che è stato pubblicizzato molto che le persone conoscono di cui le persone si fidano e quindi questo gli permette anche di salire a livello di ranking per quanto riguarda i risultati di ricerca di Google questo non è l'unico fattore chiaramente però è un fattore importante ora andiamo a parlare però del futuro di NordVPN cosa ci possiamo aspettare da questa azienda e finiranno prima o poi i youtuber che possono sponsorizzare i potenziali clienti rispondiamo a questa domanda nella prossima sezione bene ora però la smetterò di elogiare l'effetto composto che deriva dallo sponsorizzare tanti influencer e andrò a analizzare un po' le criticità per cercare di capire quale può essere il futuro di NordVPN la criticità chiaramente quella che sorge più spontanea è che prima o poi il pubblico si possa saturare penso che Nord sia lontano da questo momento ma che prima o poi potrebbe arrivare e quindi è interessante vedere come si stanno muovendo per risolvere il problema prima o poi potrebbero raggiungere il momento in cui tutti i loro potenziali clienti potenzialmente interessati a Nord che guardano YouTube hanno comprato intanto il primo è che sicuramente fanno affidamento anche su altre fonti di traffico come abbiamo visto prima lavorano anche con blogger con altri siti anche discutibili però ne parleremo più alla fine del video il secondo è che Nord sta cercando di espandere la propria selezione di prodotti questo è estremamente normale naturale per un'azienda come la loro è un processo estremamente intelligente quello che stanno facendo loro sono partiti da essere NordVPN e sono diventati NordSecurity che è il nome ufficiale dell'azienda che cosa vuol dire questo? vuol dire che hanno cominciato a vendere il gestore di password hanno cominciato a vendere altri tipi di servizi di analisi password che si possono aggiungere alla loro offerta di VPN e vanno a fare due cose il primo è che vanno ad aumentare il prezzo medio del carrello quando le persone comprano per la prima volta ok? se comincia a salire il costo che io spendo per sponsorizzare video degli youtuber oppure se la percentuale di conversione comincia a scendere perché ci sono meno persone interessate a NordVPN che magari già l'hanno comprato allora per continuare a far funzionare la mia ruota per continuare a farla alimentare devo aumentare il prezzo del mio servizio però se aumento il prezzo del mio servizio e basta magari si abbassa ancora il tasso di conversione sicuramente loro avranno testato vari livelli per cui un prezzo funziona meglio funziona peggio quindi che cosa faccio? vado a creare un prodotto ancillare rispetto a quello che sto vendendo comunque collegato che si collega ai valori del mio brand al valore della sicurezza della privacy e lo vendo tra virgolette in upsell io ti faccio pagare il VPN ma se vuoi ti metto nel pacchetto chiaramente con uno sconto con un'offerta incredibile del 60% mia nonna in cardiola e tre mesi gratis però ti ci metto dentro anche il gestore di password ma anziché 80 euro me ne dai 90 questa è chiaramente una mossa molto intelligente da parte loro e mi sembra chiaro che NordVPN si voglia espandere per diventare un po' l'azienda di riferimento per tutto quello che riguarda la sicurezza informatica non mi stupirei di vederli nei prossimi mesi venire fuori con magari un antivirus o altri prodotti in questo ambito ma ora arriva una delle parti più interessanti del video secondo me quando l'ho detto a amici persone che sapevano che stavano lavorando a questo video sono rimasti di sbocco andiamo a parlare della concorrenza infatti fino ad ora abbiamo parlato del loro servizio nel vuoto senza compararlo a nulla la prima domanda che mi sono fatto è ma effettivamente qual è il tasso di mercato il market share di NordVPN quante persone che hanno una VPN usano questo servizio è una domanda molto difficile a corrispondere perché è un mercato molto nuovo e molto fragmentato quindi cosa ho fatto ho fatto quella che viene chiamata in gergo share of search si va a vedere quanto è googlato NordVPN quanto è googlato express VPN eccetera eccetera e poi si vede la percentuale l'ho fatto per le prime 10 VPN quindi è una ricerca estremamente incompleta però quelle che ho trovato online non mi convincevano e quindi ho voluto rifarle in maniera un po' grossolana ok prendetela per quel che è però tendenzialmente quello che ho visto è che NordVPN potrebbe avere il 30% di market share questa share of voice analysis è fatta anche per stimare il market share magari vi lascio un link in descrizione che spiega come funziona questo meccanismo e questo 30% è più del doppio del market share potenziale della seconda VPN che è ExpressVPN il terzo risultato è quello che magari altri di voi conoscono cioè Surfshark Surfshark è sempre stata considerata un grande competitor di NordVPN perché aveva la stessa strategia di advertising massiccio con gli influencer bene vi svelo un segreto dal febbraio 2022 Surfshark e NordVPN sono la stessa azienda c'è stata una fusione tra le due ma vi svelo una cosa ancora più incredibile Surfshark e NordVPN vengono non solo dallo stesso paese ma dalla stessa azienda Surfshark è stata creata all'interno di un acceleratore di startup e lo stesso acceleratore di startup è stato fondato dalle persone che hanno fondato NordVPN ancora prima di creare effettivamente il prodotto VPN quindi siamo in una situazione per cui c'è questo acceleratore di startup chiamato Tesonet e Tesonet ha praticamente creato in grembo NordVPN tant'è vero che se andiamo sul loro sito ci sono ancora tante offerte di lavoro per persone che lavorino a NordVPN Nord Security che è una cosa strana per un acceleratore di solito un acceleratore prende una startup gli dà consulenza gli dà uno spazio dove lavorare gli dà una mano a raccogliere soldi e poi li lascia andare mentre in questo caso i founder delle due aziende sono gli stessi o comunque ci sono degli overlap tra i vari founder loro fanno attivamente anche ricerca di personale per loro e parlano di NordVPN come se fosse la stessa azienda e in più in questo stesso acceleratore è nato uno dei competitor principali di Nord questo vi fa venire molte domande se noi andiamo a vedere le dichiarazioni ufficiali ci dicono semplicemente che hanno fatto lo stesso acceleratore che sono rimasti diciamo in relazioni amichevoli e che si scambiavano commenti e novità su come sta andando il mercato sinceramente lo trovo molto strano trovo molto strano che un acceleratore normale già vada a prendere due aziende così in competizione tra di loro così in diretta competizione non è impossibile ma è strano e lo è ancora di più se si pensa che in questo caso fondamentalmente Tesonet ha creato Nord Security ed è Nord Security io la metterei così cioè hanno proprietà del loro brand quindi è molto di più che una semplice accelerazione quindi fate di questo commento quello che volete però lo trovo molto sospetto e è come se si fossero creati in casa il numero 1 e il numero 2 del mercato l'alternativa fosse stato questo il caso sicuramente una scelta molto intelligente quindi kudos però ecco fateci caso e la prossima volta che vedete Surfshark sapete che in realtà adesso è la stessa azienda di Nord VPN Nord Security in realtà continueranno a operare come brand separati penso ancora per un po' e continueranno appunto a tecnicamente a non essere uniti però magari in futuro faranno una fusione vera e propria quindi quali sono le conclusioni di questo video cosa ho imparato dopo ore e ore di ricerca su questa azienda è un caso di successo molto interessante io su questo canale ho la missione di creare contenuti che aiutino founder di startup e impiegati iniziali delle startup a fare meno errori a fallire leggermente di meno e ho deciso di parlare di questo tema sia perché mi interessava come persona come fruitore di YouTube capire come fanno effettivamente a sponsorizzare così tante persone sia perché penso che al di fuori di questo storytelling legato all'azienda ci sono tanti insegnamenti interessanti su come possiamo sfruttare il channel market fit quindi appunto un'azienda che è riuscita a trovare un canale di comunicazione che funzionava bene per loro come possiamo modificare il nostro prodotto in modo da adattarlo in maniera ottimale a questo channel market fit possiamo imparare tante cose per quanto riguarda tutto l'aspetto delle unit economics di come farci pagare dai nostri clienti per cercare di generare un flusso di cassa positivo e magari anche fare meno affidamento sugli investitori che specie in un momento del mercato come quello del 2022 può essere un'ottima cosa e lo trovo anche molto interessante come case study di un'azienda che ha trovato qualcosa che funzionava e ha continuato a scommetterci a crescere come una startup dovrebbe fare e poi quando ha cominciato a vedere segni di potenziale saturazione ha cominciato anche ad allargare la propria offerta quindi in generale sono diventato un po' un fan di come è stata gestita NordVPN ho ancora molti dubbi su il modo in cui il business viene operato da un punto di vista etico mettiamola così sicuramente non sono un fan da quel lato quando ho cercato di essere un po' più pungente di cercare dati sull'utilizzo che loro fanno dei miei dati e cose simili non ho trovato nulla di concreto quindi da quel punto di vista sono forse leggermente più rassicurato però ecco continuo a tenere un occhio aperto e un'altra cosa interessante che vi faccio notare è che loro non sono stati i primi nel mercato per chi di voi seguisse YouTube America ai tempi c'erano TunnelBear c'erano Private Internet Access io ricordo i video di Linus Tech Tips che sponsorizzava questi VPN semplicemente Nord cosa ha fatto ha visto un trend l'ha intercettato bene ha creato delle modifiche che gli permettessero di farlo funzionare ancora meglio e ha continuato a investire e crescere bene io spero che questo video vi sia stato utile se lo fosse stato le solite cose da YouTuber mi piace iscrivetevi quello che vi pare ma soprattutto per aumentare il mio CTR nei link in descrizione vi ricordo che ho messo anche dei video menzionati all'interno di questo video in particolare quello in cui parlo di positioning che ripeto è uno dei libri di marketing più belli più importanti di sempre e che si collega molto bene al tema di cui abbiamo parlato oggi io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao